ZOMBIE APOCALYPSE Bella a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video Dopo tanto tempo che non faccio video Eccoci qua ragazzi a presentare un nuovo server ragazzi Il Titan Games Network Community O come potete chiamarlo Non lo chiamiamo Network perchè siamo Network Quindi ragazzi niente Con me c'è Magic Ciao a tutti Ciao a tutti Ragazzi niente vi faccio un po' vedere il server Il più ovviamente è in descrizione E lo vedete pure qua a destra Quindi se Dispone di per ora di 7 modalità Anche se verranno ampliate ovviamente Si ragazzi qui allora Come potete vedere nell'inventario avrete queste cose E avrete il giocatorio on off per vedere o nascondere i giocatori Il Titan Teleport C'è il normale arco Teleport Ce l'hanno tutti i server ormai credo Poi le modalità le guardiamo tra poco Poi abbiamo i gadget i cosmetici ragazzi Troppo fighe Emozioni qua non sono Cioè guardate questo E' molto funzionali anche per andare sotto allo spawn Molto bello ragazzi Eccoci qua Siamo sotto allo spawn Sono sotto allo spawn Sali Poi ragazzi abbiamo le hub Che per ora ne abbiamo soltanto una accesa Le altre sono spente Ok non fateci caso in chat Beh Poi abbiamo le modalità ragazzi Per ora abbiamo Skyblock Creative Vanilla Sky PvP ragazzi Fatto da noi Tutto completamente da noi Quindi Sky Wars Faction E Kit PvP ragazzi Incominciamo subito Faccio vedere Skyblock Io vincerei Dallo Sky PvP Perché ha una mappa Che vero Poi Sky PvP E' l'ultimo Perché E' il server dove Secondo me E' il più Figo Che abbiamo mai fatto noi Così Ha una mappa Che davvero 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 E' una roba epica Voi spionate qua Qua ci sono gli stuffer Tutte le teste Che intanto non servono Qua raga Benvenuto Sullo Skyblock Digita Slash Yes Vabbè qua avete I comandi di Skyblock Quelli Classici comandi di Skyblock Sì Classici comandi Is create Is delete Potete anche schiacciare E funziona Oppure qua L'ultimo Vi trovate i comandi di Skyblock Vi trovate il libro Sto laggando Ok Ehm Niente raga Qua c'è il warp D'ernader Poi ci sono Se fate Slash warp Ci sono i vari warp 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 parmushop Tutti i vari warp Se fate Slash help Ci sono Dei comandi Dove possiamo fare Tutti ragazzi Se stessi facendo Slash staff Vedrete lo staff online Non è vero Ho detto una cazzata Perché Ho detto una cazzata Sul fashion Ad esempio Non funziona Il comando Slash staff Perché è solo Per gli staff Non funziona ovunque No no A meno che l'ha cambiato Se no non funziona Comunque Non funziona ovunque Slash ping Ragazzi Vi mostro il vostro ping Potete schiacciare Sulla cosa Poi c'è g C'è Sper scrive in globale Quindi ciao Abbiamo la chat globale Che funziona In tutti i server Sì Come le richieste d'aiuto Che possono essere mandate Facendo slash aiuto Funzionano in tutti i server Ad esempio Se faccio aiuto Come avete visto Adesso Io posso aprire O escrivere con lui O no Quindi Chiudiamo la richiesta Perché tanto Non mi importa Poi raga Eh vabbè Questo era Skype block Un semplice Skype block Poi Andiamo al lab Ok raga Poi abbiamo La creative Semplice creative Fuori questa Raga Scriviamo la chat Qui questo piccolo spawn Vabbè creative raga Sempre le stesse cose Fate slash ping Ci sono i comandi Classici Eliminato lotto E tu E cosa è combinato? Perché si è eliminato Lo spawn? Hai resettato Il lotto Ma perché era mio? Non lo so So che l'hai resettata Vabbè Dopo lo ricarico Vabbè Vabbè Dopo lo ricarico Lo spawn Però Fate finto a dire Di aver visto niente Che cazzo No vabbè Vabbè Adesso è arrivato Agnes Vabbè Allora ragazzi Andiamo al vanilla Pure questo Un service vanilla Ovviamente Ha pure uno spawn iniziale Poi è l'ultimo E poi diventa Un minecraft Base a tutti gli effetti Dove Dove l'unico kit Che avrete È il kit cibo Che dà Dei panini Mi pare Non voglio dire Una camolata E si può avere Ogni 12 ore Quindi Non sprecatelo Perché È abbastanza prezioso Soprattutto all'inizio Allora Sky più Poi guardiamo l'ultimo Ragazzi Andiamo su Sky Wars Pure Sky Wars Sempre come conoscete Voi È uno Sky Wars Semplice Quindi È uno Sky Wars Cos'è uno Sky Wars? Cos'è uno Sky Wars? Eh Raga Qua ci sono pure Cioè Vi potete Sia buttare Dalla Dallì sopra O aprite qua Entrare già Nelle partite fatte Noi ci andiamo a buttare Per farvi vedere Un po' com'è Allora andiamo Start al game Entra e start al game Puff Anche ragazzi Abbiamo Impostazione di gioco Possiamo votare Per il super salto Per le chest Se vogliamo Chest normali O chest di base O chest OP Per il tempo Quindi l'orario Mezzanotte E tutto O per il meteo Se volete La neve Tuoni Pioggia E soleggiato Vabbè Credo che Sarà più figo Andare con i tuoni E fare il video Con i tuoni Poi ragazzi Sì dai Poi ragazzi Il faction Andiamo nel faction Pure questo Semplice faction Ovviamente Però molto figo Se fate sempre Slash warp Volete tutti i warp Qua Tutto a menu Tutto a menu Ovviamente Bellissimo Poi Tutto a menu Ragazzi Poi cosa ci sono Vabbè Ci sono vari comandi Faction E tutto Ormai Tutti conosceranno Sicuramente Poi Il kit pvp Ragazzi Che è Provvisorio Perché dobbiamo Cambiare Ok Dobbiamo cambiare I kit Tutto Però Vabbè Poi Vabbè Sul kit pvp Ovviamente ci sono i kit Dove potete prendere Fare pvp Tra di voi E c'è Uno vs Uno ragazzi Per ora Abbiamo quattro arene Per fare uno vs Uno Come già dice il nome Uno contro uno E ok Poi Poi abbiamo Sky pvp È l'ultimo Ragazzi Molto Ma molto Bello Una mappa epica Ragazzi Ma molto Ma molto Bello Qua c'è il cestino Se volete Allora ragazzi Abbiamo qui Abbiamo un piccolo shop Poi Facendo slash top Si apre un menu Dove potete Vedere top uccisioni Top morti Top kiss leak E top personale Top tutto Quindi ragazzi Molto figo Poi Abbiamo Il I warp Come sempre con i menu Abbiamo Solamente quattro warp C'è Spawn Enchant Wip E info L'enchant ovviamente E questo è qua Dove puoi enchantarsi la roba O Ti puoi proteggere Quando ti vuoi dare Exp Non so perchè Adesso i pistoni Mi sa che sono disabilitati Va bene Devo abilitare Altro bug Altro fail E niente Ragazzi Come avrete notato Il server in beta Sì Il server in beta Siamo ancora Siamo ancora dietro A sistemare un po' Un'altra cosa Quando fate Slash kit Ci sta Il kit iniziale Poi ci sono ovviamente I kit Sbloccabili Soldato Allora C'è il kit allievo Soldato Esperto E mercenario Questi ragazzi Sono diciamo Pi o meno OP Sono dei gradi OP Ok Basta Vediamo stato Dove Non Questi non sono Di VIP Ma potete fare Slash Rank Up Per Rankare Ovviamente Al prossimo Quello che c'è Ok Grado Il prossimo Grado Poi Oltre questo Ci sono i kit VIP Ci abbiamo Cinque VIP Ragazzi Abbiamo Guardiano Eroe Colosso Leggenda E Titano Poi Una cosa Una cosa da notare Riguardo ai VIP Che non è come I VIP sono globali Ragazzi In molti server Ma i VIP sono globali Quindi se prendete Un VIP Su Il faction Vi viene Vi viene messo Il VIP Su tutti i Server Infatti Se fate Slash buy Ragazzi Qua abbiamo I VIP globali Come potete vedere I VIP globali Poi Le case Questa è la nuova cosa Delle chiavi Di Per Perfazioni Sì Perfazioni E altro Qua c'è uno L'Umbanno Se volete donare Non so Vedete voi E niente Questo Questo era tutto Ragazzi La mappa Fatti vedere la mappa Gliel'ho già fatto vedere Ehi ma Per vedere bene Devono vedere Loro Per poi Vederla E niente Ok ragazzi Questo era il server Spero che Entrate in tantissimi Perché è veramente bello Questo server È aperto tipo da due giorni Sì lo so Potete vedere Siamo 6 online Perché tanto È aperto da pochissimo E niente ragazzi Noi ci becchiamo in un prossimo video Se il video vi è piaciuto Se il server vi è piaciuto Entra Sì vabbè Lasciate un bellissimo like Ragazzi Condividete il video E commentate Se avete delle domande Da fare E insultatelo Per il reset Dello spawn Del creativo O adesso lo devo rifare Bella a tutti ragazzi Ciao